Furti in schiera per villette a schiera ma con bottino magro, ieri notte e l'altra notte nella zona di Lucrezia e Calcinelli. I malviventi sono entrati negli appartamenti ed hanno arraffato contanti e oggetti lasciati nei vuotatasche del soggiorno che in alcuni casi erano un ricordo più che veri oggetti di valore. In due nottate di ride le abitazioni visitate sono state una decina e il bottino racimolato non arriva ai 1000 euro ci dicono i carabinieri di Saltara coordinati dal maresciallo Alessandro Pannaccio che indagano sulla serie di furti lasciando lì tutto il resto computer, tablet, telefonini e chiavi di automobili con tanti, solo con tanti. Ad essere prese di mira dai ladri sono state diverse villette a schiera che presentano le medesime caratteristiche, una zona di accesso facilitata dalle vasiste dei garage e locali comunicanti che danno accesso direttamente agli appartamenti. Siamo in via Le Vespucci a Lucrezia, quella che vedete alle mie spalle è la serie di villette a schiera che sono state oggetto di furti nella notte scorsa, in 4-5 abitazioni sono entrati entrando dalle basculanti del garage forzando il cilindretto una volta all'interno della zona garage poi ci sono le porte che danno agli appartamenti, in 4-5 appartamenti sono entrati proprio passando da qua, questa è stata la via di accesso dei ladri, in alcuni sono addirittura arrivati fin sopra le camere da letto. In alcune abitazioni dove i ladri si sono trovati la via di accesso sbarrata da una semplice porta di comunicazione non hanno nemmeno tentato di forzarla, hanno semplicemente cambiato appartamento, ma ciò che rimane al di là delle poche centinaia di euro portate via è il senso di insicurezza che ti dà la sensazione che qualcuno, mentre tu dormi, rovista per la tua casa. Senti allora, una brutta sorpresa stanotte, vi siete accorti? Sì, è stato un brutto risveglio, una brutta sorpresa. Non vi siete accorti di niente? No, non c'è stato nessun rumore, quindi è stata una cosa improvvisa stamattina. Ma come mai? Cioè da dentro si riesce? La basculante, non si capisce come, hanno buttato via il blocchetto e sono riusciti ad entrare. E il garage è comunicante con la porta? Sì, sì, in alcuni sono riusciti ad arrivare fino, come da me, sono riusciti ad arrivare fino nelle camere. Addirittura? Sì. Quindi se la sono fatta tutta questa striscia? Sì, sì, su 12 case ne hanno fatte 10. Adesso siete un po' così? È la paura, il sentirsi violati dentro casa un po'.